Fratelli e sorelle, il tema di questa domenica, la ventunesima, è quella del cosiddetto potere pietrino. Siamo al capitolo sedicesimo, versetti 13-20. Tu sei Pietro e a te darò le chiavi del regno dei cieli. Naturalmente c'è qualcuno che ancora interpreta questo frano in termini di prestigio, di fervorezza della Chiesa, più una visione lontana dal nostro sentire. Oggi questo potere la Chiesa lo vive come servizio alla verità, servizio alla evangelizzazione, servizio alla comunione. In ogni caso il potere di Pietro è quello della fede. Allora se noi come Pietro saremo capaci di riconoscere lui il figlio di Dio, anche noi avremo autorità, cioè saremo credibili. Naturalmente ci sono anche dei problemi esegetici, per esempio il fatto che soltanto in Matteo abbiamo questa professione di fede da parte di Gesù, con cui costituisce Pietro, divene riconosciuto questo ruolo particolare, non solo all'interno della stessa comunità apostolica, ma anche in una prospettiva ecclesiale. A te darò le chiavi del Regno dei Cieli, il potere di sciogliere, di legare e quindi il potere da esercitare nella Chiesa. Questa confessione messianica allora è in Gesù. Soprattutto Pietro ha valore questa sua affermazione perché mette in relazione Gesù con il Padre. e la risposta di Pietro è unica e adeguata. Tu sei il figlio, tu sei figlio del Dio vivente. Ed è una rivelazione divina perché dice Gesù nella carne e nel sangue, ma soltanto il cielo, soltanto lo Spirito Santo ci può dare il potere di questa professione. Ecco allora che al di là del fatto giuridico, credo che abbia più preminenza questa dimensione della fede. Questo potere di legare e sciogliere, aprire e chiudere, che era, come abbiamo visto nella prima lettura di Sebida, dei sovrintendenti del Palazzo Regale. Cioè la vita di un palazzo dipendeva da certe regole, da certi orari, con cui era possibile accedere al palazzo oppure venire esclusi. La fede fonda allora la Chiesa e la professione di fede. Pietro allora viene visto come il portavoce e il modello di fede, ma grado tutta la sua debolezza. Perché come dicevo qualcuno pensa soltanto a una dimensione ecco di potere, ma ricordiamoci che questo stesso Pietro sarà colui che rinnegherà Gesù di fronte alle donne, che non avevano nessuna dignità a tempo di Gesù, nessuna prova nell'opinione pubblica. Pietro viene sbugiardato dalle donne, eppure, come dice Gesù, quando ti sarai rialzato, aiuterai, riedificherai i tuoi fratelli. Così ecco Pietro è beato per la sua professione e quindi questo ruolo di Pietro e della Chiesa è un ruolo particolare, nel senso della munizione, quindi della esortazione e della formazione. I tre simboli sono quantomeno eloquenti che il Vangelo ci presenta. La roccia, la roccia della fede di Pietro, come quella degli apostoli che non verrà mai meno. La fede della Chiesa, che oggi fra tanti pericoli del mondo, ecco riesce ad essere un punto di riferimento soprattutto quando è credibile, quando è coerente con questa fede professata da Pietro. Le chiavi dello sciogliere e del legare, del creare comunione o separazione all'interno della comunità, è il potere di sciogliere e legare, perché dice Gesù tutto quello che è sciolto su questa terra, quando c'è la dimensione della comunione, sarà sciolto per l'eternità. Preghiamo allora gli uni per gli altri, perché possiamo come Pietro essere generosi nella professione di fede, saldi nel nostro legame, della nostra comunione con il Padre. Il mondo oggi ha bisogno della roccia, ha bisogno della Chiesa come ancora di salvezza. Tutto ciò sarà possibile quando noi sapremo spendere la nostra vita come quella di Pietro, fino a dare la vita per Gesù, cioè un amore senza limiti, che il Signore allora ci aiuti a perseverare nella Chiesa nostra madre. Buona e santa domenica a tutti.